Noi del Centro in Terapia insieme a Cavanna Traslochi abbiamo deciso di realizzare questo progetto al fine di fornire dei video che andassero ad affrontare tutte quelle tematiche e quei cambiamenti che occorrono quando si affronta un trasloco. Speriamo che possano essere degli strumenti validi per tutti coloro che sono in procinto di traslocare o che stanno affrontando un trasferimento. E noi di Cavanna Traslochi abbiamo accettato volentieri perché riteniamo possa essere un strumento utilissimo a far vivere ai nostri clienti con più serenità il momento del trasloco e a vivere anche certe dinamiche che inevitabilmente possono portare delle ansie o delle criticità e nello stesso tempo riteniamo sia anche uno strumento utilissimo per tutti gli operatori che sono coinvolti perché possono essere facilitati e aiutati ad affrontare e a far affrontare i propri clienti in modo più sereno in determinate situazioni.